Anticipazioni Beautiful, Thomas tira fuori il coltello e attacca Brooke, puntata intera del primo dicembre 2023. Benvenuti nel nostro canale. In questo nuovo video vi daremo un'anticipazione di quanto accadrà in futuro nella SOP. Vi preghiamo però di supportarci mettendo mi piace al video ed iscrivendovi al canale. Nella casa sulla scogliera, Finn e Steffi si stanno baciando, ma il momento viene interrotto dall'arrivo di Taylor. La loro unione rende felice la donna, ma la conversazione si sposta rapidamente su Ridge e la possibile riunione della famiglia. Taylor esprime perplessità, rivelando che Brooke è stata recentemente turbata dalle azioni di Steffi. Taylor consiglia cautela a Steffi, sollecitandola ad evitare ulteriori attriti. Poco dopo arriva Ridge, portando giocattoli per i bambini. Steffi coglie l'occasione per invitare Ridge a trattenersi per cena, nonostante egli debba prima consultarsi con Brooke. Scherza sulla scarsa ricezione del telefono a casa di Steffi, suggerendo un'influenza di Brooke. La conversazione si fa però più seria quando Ridge parla del suo ruolo nella famiglia. Ammette di aver preso decisioni egoiste in passato, rimpiangendone l'impatto sull'educazione e la crescita di Thomas e Steffi. Paragona se stesso a Finn, lodandolo il ragazzo dicendo che si sta dimostrando un eccellente padre e marito, e dicendo che gli sarebbe piaciuto aver dimostrato lo stesso anche lui. Steffi, osservando l'intimità tra i suoi genitori, esprime il desiderio che Ridge torni da Taylor. Ridge riflette sulla felicità che ciò porterebbe e dice che è tormentato dai suoi errori passati e dal desiderio di fare meglio per la sua famiglia. Taylor, tuttavia, lo incoraggia a non lasciarsi sopraffare dal senso di colpa. La conversazione si sposta poi su un momento chiave del loro passato, il ritorno di Taylor anni fa, che avrebbe potuto rappresentare un'opportunità per ricostituire la loro famiglia. Ridge ammette con rimorso di aver allora voltato le spalle a Taylor e ai loro figli. Taylor riflette sull'impatto che la loro separazione ha avuto sui bambini, sottolineando come fossero troppo giovani per comprendere e gestire le conseguenze emotive dell'evento. Nel tentativo di tirar su il morale a Ridge, Taylor sottolinea che il passato è solo un cammino che hanno percorso e che non determina necessariamente il loro futuro. Lei propone di concentrarsi sul presente, scegliendo consapevolmente dove vogliono essere e come desiderano essere amati. Nella villa, Brooke arriva mentre Thomas sta tagliando delle mele con un coltello a serramanico. Douglas, felice di vedere Brooke, la invita a giocare a bowling nel fine settimana, ma Thomas interviene dicendo che Brooke è troppo occupata e con una scusa lo manda a cercare donna, mentre Brooke gli dice di voler discutere del ritorno di Douglas a casa sua. Thomas, però, insiste che Douglas è già a casa e Brooke mette in discussione la sicurezza di Douglas presso Thomas, facendo un confronto con la casa di Hop, dove per esempio non si gioca con i coltelli e ribadisce che Douglas dovrebbe tornare prima possibile alla sua normale routine quotidiana con Hop, Liam e Beth. Gli animi si scaldano poi quando Brooke, dopo che Thomas le dice che questo tipo di decisioni non spettano a lei, ribatte parlando dell'incidente della chiamata intercettata da Steffi e avvertendo Thomas di non interferire nel suo matrimonio con Rige. Brooke dice che si rifiuta di restare in disparte mentre Thomas utilizza Douglas per creare problemi tra lei e Rige e Thomas ribatte, mettendo in dubbio l'influenza positiva di Brooke su Douglas e suggerendo che Brooke dovrebbe riflettere sui propri problemi passati. Brooke è sconvolta dalle accuse di Thomas, che sostiene che Brooke è stata una cattiva influenza per lui fin dall'infanzia, accusandola di aver ferito sua madre e sua nonna e di essere ossessionata dal sesso. La donna però respinge l'idea che il suo ruolo di matrigna abbia giustificato le scelte sbagliate di Thomas. Sottolinea che non ha alcuna responsabilità per le azioni di Thomas. Thomas a quel punto, prendendo il coltello a serramanico, accusa Brooke di aver danneggiato anche la vita dei suoi figli, notando che tutti tranne Hop hanno lasciato Los Angeles. Thomas esprime compassione per Hop, avendo trascorso l'infanzia con Brooke. Poi Thomas, rivolgendo il coltello verso Brooke, riflette su come sarebbe stata la sua vita senza di lei, insinuando che l'influenza di Brooke potrebbe averlo spinto a commettere azioni discutibili.